Il nostro compito è quello di dare informazioni ai cittadini nel caso si dovessero comportare male. È chiaro che noi non siamo autorizzati ad agire, possiamo soltanto consigliare e parlare con le persone. Dal momento in cui spero mai dovessimo avere bisogno, è chiaro che si chiamano i preposti e interverranno loro. Noi cerchiamo di non accettare provocazioni di nessuna natura. All'inizio dobbiamo entrare in punta di piedi perché le persone ci vedono come una sorta di provocazione, cosa che non è. Anzi, per loro è un servizio che noi diamo per la loro tranquillità. Però i ragazzi sono ragazzi e ragionano come i ragazzi, non come le persone adulti. Per cui bisogna veramente, noi facciamo questo tipo di servizio anche in tantissime altre città, per cui abbiamo una certa esperienza. E' fortuna. Capitano i ragazzi più caldi, i ragazzi meno caldi. Si cerca di gestire al meglio, cercando di trovare al di meno i punti nevralgici e capire cosa si può evitare. Poi per il resto noi siamo a disposizione del cittadino. Qualsiasi cosa hanno necessità e bisogno, noi ci rendiamo disponibili. Per quanto riguarda invece gli interventi diretti, ci sono i preposti che non siamo noi. Siamo in stretto contatto, per cui non credo che dovremmo avere dei problemi in questa natura. Iniziamo a fare questo tipo di attività questa sera. Buon lavoro a tutti, mi raccomando. Ragazzi, occhi aperti, gentilezza e sempre un sorriso. Grazie. Grazie.